Eccoci qui cari amici di Viene a Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che secondo me è utile chiarire. Si tratta del curriculum enciclopetico. È il curriculum che si scrive con l'intento di metterci dentro tutto, tutto tutto, tutto quanto sia successo di bello dalle superiori in poi, in modo tale da aver creato la massima possibilità di successo, avere, diciamo, creare un mazzo di carte invincibili in cui ci sono più assi possibili, più combinazioni possibili di parole chiave che possono portarmi a essere scelto e far vedere così che io sono una persona poliedrica, che ho tanti interessi, che sono eccellente in tanti campi e da un punto di vista logico potrebbe sembrare una buona scelta, uno mette dentro tutto, così viene fuori qualcosa di corposo e la valutazione dovrebbe salire. Sì, da un punto di vista umano, se ci fosse tanto tempo per analizzare un curriculum, sicuramente un curriculum di una persona che dimostra di aver fatto tanto, di essere stato eccellente in tanti campi è sicuramente una bella cosa, viene fuori un Leonardo da Vinci della situazione che in tutti i campi era capace. Però la realtà è che quando un curriculum viene poi letto dall'umano, è bene che ci siano tutte le parole chiavi, così almeno viene letto dalla macchina, dai motori di ricerca e viene estratto per le parole che servono, però un umano, un recruiter sta lavorando per riempire una posizione specifica in uno specifico campo, in una specifica azienda. e quindi del fatto che voi siete geniali in mille altri ambiti, non solo diciamo serve a poco e serve a niente, è anche un fattore distrattivo per i pochi secondi di attenzione che un recruiter può dare a un curriculum. Quindi se ci sono tanti fattori che non sono complementari, ma così vanno a spiegare altri ambiti del vostro profilo, che non sono correlati, che non servono alla posizione di cui voi state applicando, è male. Perché il recruiter potrebbe pensare, ok ma questa persona allora non è uno specialista di questo campo, è una persona che applica qui perché ha bisogno di lavoro, però come potrebbe applicare in un campo totalmente differente, perché mi dice che ha fatto dei corsi, un po' di esperienza, ma io sono qui per cercare il meglio del meglio di quello che mi capita sotto mano, quindi se uno è troppo poliedrico va a finire che passa in secondo piano, perché il recruiter ragiona in maniera molto, è come se fosse in una catena di montaggio, arrivano i curriculum, deve subito andare a scremare quelli più adatti, che balzano all'occhio con certe caratteristiche, e gli altri che sono dubbiosi perché magari uno ha fatto un sacco di cose, perché magari uno è geniale nell'apprendere, è geniale nel fare tante cose, potrebbe essere penalizzato. Non so se vi ricordate quando magari facevate le superiori, se c'era qualcuno nella vostra classe che aveva troppi interessi, per quanto magari fosse bravino come gli altri nella stessa materia, veniva penalizzato, perché gli insegnanti dicevano no, questo mette il suo focus da altre parti. Quindi è così. Curriculum enciclopedico può servire nella fase iniziale, in cui dovete fare proprio un bilancio di competenze, quindi diventa proprio il punto in cui scrivere giù tutto, per poi scremare. Poi per ogni tipo di ambito in cui si applica, bisogna scremare violentemente, togliere tutte quelle che sono distrazioni, potrebbero essere ambiguità nella lettura, e tutte quelle cose che vi fanno apparire meno specialisti, meno focalizzati in un solo ambito. Poi naturalmente se ci sono delle cose correlate, ovviamente fatelo sapere, sicuramente se uno applica in un certo ambito, per esempio un'azienda di videogiochi, e lui stesso è un giocatore, ne capisce, e dentro da anni è una cosa da dire. Però se sono cose scorrelate che vanno più che altro a confondere chi sta leggendo, perché dice ok, ma questo mi ha detto che è bravo in questo, ma poi è pure bravo in quest'altra cosa che non c'entra proprio niente. Va bene se è un hobby, non c'è nessun problema, ma se sono aree di specializzazione in cui la persona ha preso anche delle certificazioni, è un po' forviante. Vi dico anche un'altra cosa. Per chi ha delle esperienze di imprenditore o di così libero professionista e vuole applicare per fare il dipendente, spesso far vedere che si è troppo, come dire, intraprendenti, che si ha la capacità di creare da zero, trovare i clienti e vi dicendo, magari per una cosa che non c'entra nulla, è un fattore penalizzante perché chi legge il curriculum potrebbe pensare che questa persona non sia stabile appena avrebbe l'opportunità che magari l'economia gira meglio o trova il socio adatto, potrebbe mollare. Quindi anche quella. È una gran bella cosa da raccontare ad amici che possono apprezzarci, alle persone che possono capire, ma nel contesto della ricerca del lavoro tutte queste cose in più non servono, anzi, sono a vostro detrimento. Quindi filtrate bene quello che scrivete, tagliate bene i pezzi e da un curriculum enciclopedico generico ricavateci due, tre, insomma quelli che volete per gli ambiti applicativi che vi servono e date una direzione al curriculum in alto dove c'è scritto Career Aim, scopo del curriculum, insomma date proprio una direzione in cui si dice, io sono interessato a posizioni in questo ambito. Punto. E quello già chi legge poi cercherà la congruenza con quell'informazione iniziale e quindi più è congruente il curriculum più chiaramente i punti salgono. Bene ragazzi, io spero di aver chiarito uno dei dubbi che ogni tanto viene fuori sulla scrittura del curriculum e noi ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, ciao!